Siamo nel 1327. Guglielmo da Baskerville, frate francescano inglese e il suo allievo Adso da Melch, si recano in un monastero benedettino sperduto sui monti dell'Appennino Toscano. L'abate decide di confidare nelle capacità inquisitorie di Guglielmo, ex inquisitore, affinché faccia luce sul tragico omicidio di frate Adelmo, a cui i monaci attribuiscono misteriose cause soprannaturali. Viene trovato morto Venanzio, giovane monaco traduttore dal greco e amico di Adelmo. Si vocifera malignamente sull'aiuto bibliotecario Berengario, succube del bibliotecario Malachia, grasso e non in buona salute, peccatore di sodomia e che scambia favori sessuali con libri proibiti. Guglielmo impotizza che è proprio a causa di questo scambio che Adelmo si toglie la vita. Guglielmo si convince sempre più che il segreto dietro tutte le morti sia da cercare nella lotta di potere all'interno dell'abbazia e in un libro misterioso nascosto nella biblioteca, a cui hanno accesso solo il bibliotecario e il suo aiutante. Convinti di dar la caccia a un libro in greco, né Adzo né Guglielmo prestano attenzione ad un libro scritto in arabo e su diversi tipi di pergamena che si trovano sul tavolo di Venanzio. Il libro viene recuperato di notte dall'aiuto bibliotecario Berengario, che ruba anche le lenti da vista di Guglielmo. Berengario sparisce, venendo ritrovato poi morto e con la punta delle dita della lingua, nere. Nel monastero sono presenti anche il cellario Remigio da Varagine e il suo amico Salvatore, che parla una strana lingua che combina latino, spagnolo, italiano, francese e inglese. Remigio scambia favori sessuali con cibo con una povera fanciulla del luogo. Adzo conosce quindi per puro caso la ragazza, trovandola nelle cucine dell'edificio, e scopre i piaceri dei sensi, nutrendo per la ragazza un misto di amore e preoccupazione. Confessa il tutto a Guglielmo, che gli dice che la cosa non dovrà più ripetersi, ma che non è poi così grave. L'indagine di Guglielmo viene interrotta dall'arrivo della delegazione papale. L'inquisitore Bernardo Gui trova la fanciulla insieme a Salvatore e incastra entrambi con l'accusa di essere cultori di riti satanici. Bernardo Gui condanna quindi fra Remigio, Salvatore e la fanciulla, dichiarandoli inoltre colpevoli delle morti del monastero. More quindi anche l'erborista Severino da Sant'Emerano, il giorno seguente il bibliotecario Malachia. Guglielmo comincia a capire. Berengari ha letto il libro, è tormentato dal veleno, si è recato in erboristeria per cercare delle erbe lenitive per fare il bagno, nascondendo il libro in erboristeria per poi morire altrove. Severino, trovato il libro, ha cercato di avvertire Guglielmo, ma è stato intercettato e ucciso da Malachia. Bencio, trovato il libro, lo nasconde e Malachia lo raggiunge e gli propone di diventare il nuovo bibliotecario. Bencio gli restituisce il libro e Malachia lo legge e per questo trova la morte. Bencio, ambizioso, ha nascosto informazione a Guglielmo, ma adesso è disperato e non sa cosa fare. Guglielmo lo rimprovera aspramente e gli consiglia di non fare niente se vuole aver salva la vita. Guglielmo e Azzo hanno modo di parlare con tutti i monaci della battaglia. Molti monaci sono scontenti per il modo in cui la battaglia viene guidata. Si maligna su Abbone, divenuto abate perché figlio di un fedotario e non per meriti religiosi. Guglielmo apprende che secondo la regola benedettina il bibliotecario è il candidato naturale a diventare abate. Il frate Nicola è convinto che Berengario e Malachia siano stati uccisi proprio perché un domani non diventassero abati e pertanto conclude che anche Bencio è in pericolo se Abbone lo nominerà bibliotecario. Guglielmo cerca di avvertire l'abate del pericolo che lo minaccia, ma l'abate decide per insabbiare la vicenda e risolverla con la sua autorità. Guglielmo scopre come entrare nel luogo dove è custodito il manoscritto fatale. Mentre salgono in biblioteca dall'ingresso opposto dietro l'altare della chiesa che poi attraversa l'ossario, Guglielmo e Azzo odono un battere disperato ai muri e capiscono che è l'abate che è rimasto imprigionato. Trovano quindi frate Jorge, vecchio aiutante bibliotecario, che divenuto cieco aveva dovuto rinunciare alla carica di bibliotecario di abate facendo eleggere Malachia al suo posto. Jorge offre a Guglielmo un libro da leggere, ma questi lo sfoglia con le mani protette da un guanto, evitando quindi il contatto con il veleno cosparso da Jorge sui bordi in modo da avvelenare ogni malcapitato lettore che dovesse sfogliarlo. Jorge si riprende il libro e scappa approfittando del buio, inseguito da Guglielmo e da Azzo. Raggiuntolo in una sala lo trovano intento a strappare e divorare le pagine avvelenate del testo in modo che più nessuno possa leggerlo. Jorge rovescia quindi un lume provocando un incendio che nessuno riuscirà a domare e che inghiotirà nel fuoco l'intera abazia. Scampati all'incendio, Azzo e Guglielmo abbandonano l'abazia e decidono di separarsi. Azzo diventa monaco e narra di aver fatto ritorno anni dopo a quella stessa abazia trovando dove anni prima si erano consumati omicidi, intrighi, veleni e scoperte, solo silenzio e solitudine.